Qual è il contributo che i giovani possono dare al governo aperto? I giovani comunque sembrano interessati, perlomeno in una certa percentuale, alla politica. E quello che i giovani possono fare per farsi carico dell'istenza di governo aperto è farsi carico quindi delle istanze giovanili. Il precariato, il fatto che molti giovani non studiano o ne lavorano, oppure il fenomeno della disoccupazione giovanile, la questione del diritto allo studio, anche della fuga dei cervelli. Ma anche portare attenzione a tematiche quali diritti civili e transizione ecologica. Quindi l'importanza di farsi carico appunto delle istanze che più interessano le giovani generazioni è un punto di partenza per far sì che i giovani contribuiscano all'attuazione del governo aperto. Ma più nello specifico il contributo che le associazioni giovanili possono dare all'attuazione del governo aperto è quello di fare ponte tra le iniziative per il governo aperto e le giovani generazioni in generale. Per esempio grazie anche alla presenza di molte associazioni sui social o nei contesti popolati da giovani come università, scuole, o anche costruendo reti di collaborazioni tra diverse realtà. e in ultima istanza possiamo anche raccogliere idee e proposte fatte dai giovani che fanno parte delle associazioni o che seguono le associazioni e informarli a loro volta sulle iniziative del governo aperto che li interessano.